ciao a tutti ragazzi e bentornati su betbide airsoft ho voluto aggiungere questo piccolo commento audio per potervi fare gli auguri quindi vi auguro un buon natale ed un felice anno nuovo a tutti quanti ci rivecchiamo nel 2017 e adesso godetevi questo piccolo deathmatch ciao a tutti ragazzi oltre dalla finestra Questi fanno più o più? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.